Mentre gran parte della politica italiana si attorciglia su se stessa, la vita reale è quella di tantissimi italiani, tantissimi italiani si dibatte tra disoccupazione che cresce, precarietà, marginalità. Per questo chiediamo, torniamo a chiedere al Governo di indire la data del referendum della CGL sui voucher, sulla responsabilità negli appalti. Lo faremo ogni giorno a Montecitorio, abbiamo già cominciato in aula qualche giorno fa, continueremo fino a quando il Governo Gentiloni non farà il suo dovere indire la data del referendum.